Come Norma è tutto un intreccio, un grande intreccio, un telaio, noi ci intrecciamo. Intrecciamoci e invitiamo tutti i genovesi ad intrecciarci con noi al teatro Carlo Felice dal 24 al 31 di gennaio per la nostra magnifica Norma. Io sono una cantante e sarei Norma. Ecco, faccio lo stesso invito. Io sarei una parte della regia e io l'altra. La scenografia è ispirata a una grande artista sarda che si chiama Maria Lai, che tesseva dei tessuti molto semplici e che proiettava queste opere verso l'infinito, verso l'universale. Quindi ci ha dato l'idea di questa norma che è un'arcaica tessitrice. Di trame, di fidi, di storie e di legami tra terra e il cielo. Quindi questa luna che lei tesse con elementi molto semplici diventa un'opportunità per staccarsi dalla terra e guardare i suggerimenti del cielo, che ha tante cose da dire e tante cose di cui parlare. Mi piace, l'ho scoperta tardi. Cioè, nel senso che da giovane non frequentavo l'opera, forse ai miei tempi usavano più musical, quelle cose lì. Adesso, invece, è 10-15 anni che vado sempre a tutte le prime. La norma proprio non la conosco. Ho già il biglietto da qua. La norma manca a Genova dal 2005. L'ultima protagonista fu Fiorenza Cedolì, su una delle più grandi interpreti. Ma adesso, questa volta, con due cast molto importanti. Mariella De Via nel primo cast e Desiree Rancatore, che debutta il ruolo nel secondo cast. Avremo due norme da vedere, entrambi, tutte e due, molto interessanti.